Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Prima di lasciarvi al video, volevo appunto farvi sapere che faccio parte di un coro, il coro Vosdemont, diretto dal maestro Marco Maiero. Dato che questo coro è riconosciuto e ricercato in tutta Italia e non solo, quando facciamo delle uscite colgo l'occasione per riprendere e riscoprire il paesaggio ospitante. Ecco, l'ultima uscita l'abbiamo fatta a Valle di Cadore, in Veneto. Valle di Cadore è un paese veneto in provincia di Belluno, situato a 850 metri sul livello del mare. Che dire di questo paesino? Mi è piaciuto, anche se ci siano stati molto poco, perché alla fine siamo stati in giornata, trasmette tranquillità, serenità, mi piacerebbe ritornarci per riuscire a riscoprirlo meglio, ma adesso basta chiacchiere, se vi piacerà il video potete mettere un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!